Liste chiuse, campagna elettorale ufficialmente cominciata. Ieri alle 16 è scaduta a termine per la presentazione delle liste che prenderanno parte alla competizione elettorale del 5 novembre e che andrà ad eleggere il prossimo presidente della regione Sicilia. Saranno 55 candidati ragusani in campo per tre posti disponibili con la possibilità molto probabile del quarto. 15 le liste in campo a sostegno degli otto candidati presidenti. Alla fine concorreranno per una poltrona a Palazzo d'Orleans Giancarlo Cancelleri, per il Movimento 5 Stelle Claudio Fava, 100 passi per la Sicilia, Fabrizio Micari supportato dal PD e da altre tre liste, Micari presidente, Sicilia futura e alternativa popolare. Nello Musumeci, sostenuto da 5 liste. Forza Italia, Nello Musumeci presidente. Udc, diventerà bellissima e popolari e autonomisti. Francesco Paolo Busalacchi, appoggiato dalla lista Noi Siciliani con Busalacchi. Roberto Larrosa, sostenuto da Siciliani liberi. Larrosa presidente. Piera Maria Loiacolo, unica donna in corsa per la presidenza, appoggiata da una sola lista, lista civica per il lavoro. Loiacolo presidente. Pierluigi Reale, appoggiato da Casa Pound. Dicevamo dunque che sono 55 candidati ragusani. Di questi, solo una candidata è stata insinita negli stili blindati dei presidenti. Si tratta di Vanessa Ferreri del Movimento 5 Stelle. Ecco quali sono i nomi dei candidati brei. Per il Movimento 5 Stelle, Vanessa Ferreri, Stefania Campo, Carmelo Spata, Patrizia Bellassai. Per cento passi per la Sicilia, a sostegno di Claudio Fava, Francesco Aiello, Detto Ciccio, Giovanni Di Stefano, Salvatore Ponomani, Resi Iurato. Per la lista, siciliani liberi, a sostegno di La Rosa, Luca Garofalo, Giovanni Arato, Giovanni Cappello, Sole Luna, Stella. A sostegno di Nello Musumeci sono candidati in Forza Italia, Giovanni Mauro, Martina Guarascia, Orazio Ragusa, Antonio Zocco Pisana. Per la lista, Nello Musumeci presidente, noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Luisa Bruno, Luigi Melilli, Natascia Pisana, Francesco Raffo. Per l'Udc, Marzia Calandra, Giorgio Fede, Roberta Giulia Benza Salma, Carmelo Manasia. Per la lista, diventerà bellissima, Giorgio Assenza, Andrea Nicosia, Angelica Poi Domani, Paolo Santoro. Per la lista, popolari e autonomisti, i candidati siciliani sono Vigilia, Gennuso, Mariano Ferro, Matteo Gentile, Marco Gerovese. A sostegno del rettore Fabrizio Micari, i candidati ragusani sono, per il PD, Giuseppe Di Giacomo, Emanuele Di Pasquale, Dettonello, Giuseppe Rocuzzo e Emana Castello. Per la lista, Micari presidente, troviamo invece, Coggetta Fiore, Salvatore Battaglia e Antonello Calvo. Per Sicilia Futura, Lucia D'Aguila, Carmelo Di Quattro, Antonio Finullo e Lorena Pelligra. Per Alternativa Popolare, Giovanni Lavia, Benedetto Rosso Detto Ritto, Rosanna Cascone e Gaetano Rizza. Per noi siciliani, con Busalacchi, invece, troviamo Arcangelo Mazza, Elena Di Grandi, Piero Asero e Angelo Agliuzza. Ina Cusana, a sostegno di Loiacolo, sono invece, Eliana Busin, Giuseppe Minardi, Maria Lescio, Salvatore Occhiminti. Questo dunque il quadro completo dei candidati ragusani alle regionali. La corsa all'arse è appena iniziata. Da oggi inizia ufficialmente una campagna elettorale che culminerà con il voto del prossimo 5 novembre.